Per me l'apertura a Lecce nel Salento è gioia, affetto, ho tanti amici e quindi veramente è un investimento fatto con tanta gioia e piacere. Un vero e proprio spettacolare evento realizzato da Maldarizzi Automotive per la sua apertura nella zona industriale di Lecce. Alla presenza del presidente della Maldarizzi Automotive SPA e di tantissimi volti noti del capoluogo salentino e dell'intera regione Puglia, è stata inaugurata la nuova sede in Viale Portogallo 16 a Lecce. Tra le sale espositive del nuovissimo autosalone, luminarie, musiche e pietanze deliziose hanno accompagnato gli ospiti alla scoperta di una realtà che da tempo il presidente Maldarizzi sentiva il desiderio di portare nel Salento. Veramente contento perché a meno di 12 mesi, come ricorderete, siamo riusciti a rispettare questo impegno. Avrei preferito anche due o tre mesi prima, ma sapete che i lavori di strutturazione purtroppo si sa quando si iniziano, ci vuole sempre un po' di tempo. Stasera inauguriamo la concessionaria Spoda, che è una concessionaria che sul territorio mancava. Rappresentiamo su questa struttura altri tre brand ufficiali, cioè MG, Smart e Ineos Granadier. Poi saremo presenti con il marchio New Smart, con la presentazione in anteprima della Hashtag One, e concessionari del marchio Ineos. È un nuovo marchio di un grosso imprenditore inglese che per passione ha deciso di proporre sul mercato mondiale un fuoristrada con caratteristiche estreme per le attività di fuoristrada. Siamo onorati di essere in questo territorio, siamo onorati di essere approdati su Lecce con questi marchi. Grazie a tutti.